Soltanta le proposte formative e professionali di attrezzanti atenei italiani e stranieri, scuole di formazione, enti e istituzioni, 50 gli incontri in programma con le università e diversi workshop organizzati dalla regione Puglia. La parola d'ordine è futuro. Lavoro è una conseguenza degli studi, c'è scritto, ci credi? Beh sicuramente sì, io ci credo anche tanto. Qui c'è una ragazza che si sta a lasciare i tuoi riferimenti, ti piacerebbe lavorare nel campo della moda? Sì, è il mio sogno da quando sono piccola, ho sempre voluto diventare estivista. Qui i ragazzi imparano quali sono le nuove frontiere aperte dalle tecnologie. Sì, praticamente questo si chiama l'automentata. È una risposta italiana alla richiesta dell'Unione Europea di formare dei giovani altamente specializzati, dei tecnici altamente specializzati. Ecco, prova questi video immersivi. Che cosa sono questi? Sono sì, io immersivi in 360 gradi, c'è la possibilità di immergersi dentro la scena. L'importante è impegnarsi. Il futuro non ti spaventa. Non molto. Adottare un ulimo.